Con Mario Calabresi al Salone del Libro, tante le edizioni che tu hai vissuto, con vari ruoli, sempre da protagonista, che salone hai trovato e che salone stai trovando? Un salone bellissimo, pieno, ogni anno ci sono più persone e più offerta. La quantità di dibattiti, di scambio è incredibile, non finisce mai di stupirmi. Tanti i giovani, ma forse siamo solo noi di una certa età che ci stupiamo di tutto questo, però ha un significato questa presenza? No, facciamo bene a stupirci, perché soltanto 3, 4, 5 anni fa si diceva che la lettura ai libri ai giovani era un rapporto finito, che non avremmo più visto che i libri sarebbero morti. Invece i libri stanno benissimo e stanno benissimo perché i giovani sono tornati a leggere tanto. In Italia, grazie anche a una tua intuizione, il mondo dei libri dialoga con il mondo dei podcast. Quanto è importante questo? Non si sottrae mai un lettore, un pensiero, ma si moltiplica, no? Sì, quello che abbiamo visto è che quando un libro diventa un podcast o un libro diventa una serie tv, un film, le due cose non è che uno esclude l'altro, anzi si arricchiscono e si rilanciano uno con l'altro. Sono complementari, non sono concorrenziali. Grazie Mauro, Mario e buon salone. Grazie. Grazie.